Hi people, scusatemi sono un po' macchiata, vabbè, sono le sette e mezza di mattina e io mi sto preparando per andare a scuola, mio fratello ancora sta dormendo ma ok, quindi niente, siccome sono molto di fretta adesso vado a prepararmi e quindi ci vediamo dopo. Allora, sono le tre di pomeriggio, io sono appena tornata a casa, parlo piano perché sono nella scala e adesso salgo a casa e vado a mangiare. Esatto, guarda che buona! Allora ragazzi e ragazze, dopo aver visto la televisione, dopo pranzo, io non ho più ripreso semplicemente per il fatto che mi sono messa a letto come ogni pomeriggio perché stavo morendo dal sonno, ho guardato Orange e poi appunto mi sono addormentata. Ora sono le 21 e 12 e ora vi racconterò la breve storia triste della mia vita. Ero su Instagram felicemente, molto felice, ho detto guarda c'è la diretta di Yamat che è un cantante che è andato da amici che adesso purtroppo hanno buttato fuori, che vita triste, penso che comunque ve lo conosciate. Comunque, in pratica ero sulla sua diretta, molto felice, ho detto wow Yamat sta facendo la diretta, sì. Entro nella diretta, mando la richiesta di partecipazione alla sua diretta perché stava chiamando un paio di persone. E dopo un paio di minuti io vedo, cioè sento lui che dice ah c'è Giuliana, chiamiamo Giuliana. E c'era io tipo, oh mio Dio, oh mio Dio, parla di me. E quindi niente, in pratica ho mandato la richiesta di partecipazione al mio profilo. E stava caricando la rotellina, quando entra nelle dirette che c'è il pallino con la vostra faccia e carica. Stava per arrivare alla fine quando io per sbaglio ho premuto il pulsante annulla e... No, 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 è no, è no. Hai iniziato a fare ah, me l'hai rifiutata, no. E io tipo no, 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 non l'ho fatta apposta, ti prego please richiama. E poi ho una storia triste e quindi non mi ha richiamato. Adesso per consularmi faccio i tostallantella. Comunque mentre faccio i miei bellissimi e buonissimi tostallantella volevo dirvi che ancora appunto sono le 9 e un quarto. E che fra un po' di tempo tornano i miei genitori a casa perché dobbiamo uscire. Visto che per adesso siamo io solo io e mio fratello, Kla saluta. Ciao. Perché mia sorella è fuori ad una tombola con dei suoi compagni e i miei genitori invece sono fuori perché erano andati alle cene di ballo. E adesso quando tornano dobbiamo andare a questa festa, a cui è stata invitata mia sorella perché realmente è stata invitata tutta la famiglia. Quindi ora ci dobbiamo preparare, vero Kla? Quindi dopo il tost mi vado a preparare. Allora ragazzi io sto letteralmente morendo. Avete presente che prima vi ho detto che Yamato purtroppo, cioè per sbaglio avevo annullato la richiesta? Ragazzi mi ha chiamato in privato su Instagram, mi ha chiamato in privato su Instagram. Sto morendo, letteralmente. Dopo vi lascio lo screen. Ragazzi voi non potete capire, se mi seguite su Instagram avete visto che io ho messo una storia. Lui ha visto la storia e mi ha cercato in privato e mi ha videochiamato. E quindi ragazzi sono troppo felice. Comunque adesso ho finito di mangiare i tasti e ora mi vado a preparare. Allora alla fine ho scelto quest'outfit, ho messo questi pantaloni che sono di Jennifer, le warashi, o warashi come le chiamate voi non lo so. E la felpa di Teen Wolf con scritto Stilinski. Molto easy e bella. E adesso mi trucco un po' perché sono un po' orribile. Allora sono le dieci e mezza e io e mio fratello stiamo uscendo insieme ai miei genitori. Quindi niente. Cla, sei felice? Troppo. Che cosa stiamo andando a fare? La tombola? Ovvio. Ovvio. E quindi andiamo in macchina. Siamo arrivati e ora stiamo mangiando. Ed ecco che il mio fratello ha dodici anni persi. Pobbri. Via! Pobbri! Dove te parlare? Pobbri! Pobbri! E niente. Sono tornata adesso a casa. È l'una meno venti. E adesso ho messo il pigiama. Ora mi strucco perché sono truccata. Mi strucco e vado a letto. Quindi niente. Mi sono struccata. Adesso vi dico di iscrivervi al mio canale. Mettere like e commentare il video. E seguirmi. Su Instagram. E musical.ly. Sì. Un bacio. E grassi, Reg thermo. E biciamati. Andiamo! E palpare. Mangal